Ciao a tutti e bentornati alla nostra partita di Crusader Kings 2 e bentornati allo Stannis Baratheon Challenge Dopo che ieri è andato una bella merda perché cercando di tenere il nord ho fatto semplicemente un danno dopo l'altro perché al sud mi hanno conquistato e tutto è finito, questa volta prenderemo tutta un'altra strada Abbandoneremo il povero Jon Snow, la sua nord è a tenere impegnati i Bolton e marceremo a tutta velocità verso sud per cercare di mantenere il nostro trono magari conquistare il trono di spada e vedere cosa ne facciamo Tra l'altro vi ricordo che se avete visto la sfida di ieri che dopo la sconfitta del povero Stannis mandato alla barriera a diventarne il nuovo loro comandante tutto è tornato nelle mani di Shirin che era riuscita a sconfiggere una ribellione non vi dico molto di più ma era una partita che volendo si potreva continuare fatemi sapere se volete continuare intanto proviamo a fare tutto questo non vi leggo più gli eventi andatevi a vedere l'inizio del video di ieri ma sicuramente il nostro amico qua parteciperà alla battaglia per noi, noi in realtà ci proponiamo Jon Snow ma lo abbandoneremo molto presto e inizieremo a marciare verso sud qui dobbiamo viaggiare verso sud verso sud si si sono legittimo re eccetera 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 ho altre armate in corso no oh cazzo Lord Jon Snow ha non ha voluto battersi con noi ma povero bastardo vabbè andiamo verso sud ma porco cane ma perché Jon Snow non si è unito a noi ma cavolo e perché ho solo 5.000 armate vediamo il solito combattimento ma nuovamente hanno vinto l'oro quindi insomma Euron Greyjoy sposa che ti pare amico mio sposa che ti pare per me io me ne vado dal nord mi piacerebbe che nessuno mi seguisse però possibilmente armata di Ramsey va bene ci uniamo a lui allora ovviamente lo rendiamo marziale ovviamente gli diamo come obiettivo salire sul trono di spade mentre continuiamo a marciare verso sud vediamo un pochettino cosa fare a lei diamo come focus dai va bene questo vediamo un poco non è un oro quanto siamo lontani da sud e tra l'altro acceleriamo un poco intanto perderemo altre battaglie ma non che mi interessi molto sposa pure che ti pare oh 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 benissimo ci danno del denaro per ammazzare però abbiamo perso una battaglia lasciatelo pure stare dov'è oh vabbè dove sono le mie fermi tutti vorrei anche che magari vi fermaste un secondo ci sono delle nuove truppe che si uniscono a me tutto questo mi rende molto fiero e felice pausa grazie vorrei trovare le mie truppe a questo punto che sono lì e stanno venendo verso sud molto bene continuiamo a venire verso sud ci sono altre truppe mie qua su a nord abbandonate si ce ne sono altre 7000 perché ci sono altre 7000 uomini qua su abbandonati oh dio venite giù solo che è troppo tardi a meno che io non mandi una flotta a nord ho paura che mandando una flotta a nord vediamo un po' allora aspetta fermiamo i 7000 qua su due che sono già vabbè stanno già venendo a sud ci fosse due giusto due eventi in meno sarebbe sarebbe meglio perché insomma adesso è un pelino incasinato abbiamo vinto questo va tutto bene dove sono finite le mie truppe qua su al nord oh le mie truppe non sono più al nord ma stanno credo morendo in questo punto e difatti me ne sono sono morte malamente adesso arriveranno le 7000 me ne ero completamente dimenticato che stavano marciando verso nord verso sud scusatemi diciamo che mi sono fatto una vera figura di merda perché mi sono completamente dimenticato ma ci sono troppi assedi in questo cazzo di gioco lo so che sto perdendo dovunque perché non ho modo di guidare di avere truppe sul loco unisciti lì va qualcun altro si è unito a me morale delle armi più 10% qualcun altro si è unito a me nulla di così fondamentale ma insomma è meglio di niente queste truppe qui le truppe di Dorn non so perché sono schierate contro di me ma vabbè perché sono schierate insieme a non ammazziamo truppe di Dorn queste mi stanno seguendo fico molto bene se mi seguite venite verso sud va cerchiamo di mettere i piedi sul trono di spade certo abbiamo un po' abbandonato il nord ma si fa un po' quello che si può benissimo qualcun altro si unisce a noi poca roba per carità però stiamo marciando verso sud va bene e intanto abbiamo sacrificato uno a Rollor al dio della luce in persona va bene se riuscissimo a vincere questa battaglia dovrebbe essere un buon risultato anche se la vedo un po' grigia no no aspetta aspetta questi sono un po' troppi dove sono le mie navi qua quello che non riuscirò a imbarcare tutti temo eccellente nostra battaglia sta purtroppo andando abbastanza male vabbè però stanno arrivando no allora marciamo verso di qua ok il problema è che qua ce ne sono 394 ma 13.000 potrei anche provare il colpo il numero non è così sopraelevato rispetto al nostro un pizzico di culo che non stiamo avendo e niente sconfitti di nuovo ci ho sperato un poco di riuscire con un colpo un po' da maestro ma niente benché Stanny se sia un gran comandante non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo e le truppe si stanno ritirando di milioni di chilometri peraltro queste sono truppe nostre alleate ci seguono verso sud il che non è male ma un problema che stiamo perdendo malamente potremo provare a riprendere questi territori non andiamo verso nord di sicuro lasciamo che se ne occupino i Bolton tu però sei Griffin Roost e quindi a me non piace tanto avere le truppe lì quando stanno arrivando le altre quindi lasciamo che si riprendano un attimo non possiamo richiamare nulla vieni va magari riusciamo a imbarcare qualcuno non ci uniremo a loro togitelo dalla testa imbarcati va così magari veniamo a riconquistare qualche territorio perfetto eccellente allora vediamo come vanno le guerre la nostra guerra contro l'invasione di Aegon va una merda quella contro Retommen va peggio ancora queste sono truppe queste arrivano a Rainwood ma io sarei più contento se però perché qua stanno attaccando quello sbagliato temo perché Dorne dovrebbe credo combattere anche contro di loro poi qua hanno 34.000 uomini cosa faccio contro 34.000 uomini posso provare ad affondare qualche flotta a vedere se riesco a ottenere qualcosa tipo quegli 8.000 lì però non li combatto non li stiamo combattendo perché va bene questo ce lo siamo ripreso no ma non è fattibile che cazzo di assedio abbiamo subito per carità lì adesso non ci sono più tante truppe sono tutte spostate là potrei tentare il colpo gobbo di catturare tommen proviamo il colpo gobbo è più o meno la mia unica chance ma insomma vediamo cosa ne esce fuori loro lì mi hanno ricatturato adesso 21.000 truppe stanno arrivando delle truppe a farsi massacrare proviamo questo colpo gobbo improvviso perso anche dragonstone però siamo al 92% quindi la vedo molto grigia abbiamo perso credo anche questa battaglia abbiamo perso tutte le battaglie ma forse questa l'abbiamo vinta fantastico abbiamo vinto una battaglia comprendiamo la nostra marcia verso nord solo che adesso siamo 94% 94% vincendo riusciamo a tenere lontano a tenerli lontano non andremo verso nord toglietevelo dalla testa perso anche driftmark abbiamo ancora il 2% di possibilità oh porca puttana oh molto peggio di ieri molto 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 peggio di ieri oh vabbè almeno ci hanno liberato vabbè contro lord dagon direi che non faremo molto ci riproviamo facciamo ancora un tentativo di oggi dai facciamo ancora un tentativo chiudiamo questa e facciamo ancora un tentativo un tentativo Autore dei sorrisi